Bene, mentre scorrevano queste immagini, soprattutto queste notte che qui in studio ascoltavamo con particolare attenzione, eravamo tutti qui un po' che ci dimenavamo, ci chiedevamo anche se i ragazzi che oggi impazziscono particolarmente per gli strumenti elettronici, per i tastieri, per quello che possono collegare ai loro personal computer a casa, potrebbero pensare diversamente se si fermassero a riflettere sulla creatività che emergeva da queste immagini e da questi concerti, una chitarra assolutamente vulcanica. Chiediamo a Francesco Leprino che tra l'altro nelle sue visite a scuola, quando va ogni tanto a trovare gli studenti, a tenere le conferenze, ha proprio il modo di toccare un po' con mano. Cosa si può dire? Intanto adesso c'è questa mania incredibile per gli strumenti elettronici, per le tastiere elettroniche che fanno ormai quasi tutto da sole, i programmi sono già presettati, come si dice in gergo, programmati con dei suoni, con un tasto, puoi fare un accordo, un arpeggio più o meno complesso, per cui si arriva quasi a suonare una tastiera, sarebbe come quasi mettere un CD e mettere un disco, l'interattività è maggiore sicuramente, però la creatività ne viene sminuita. Io sono stato molto contento che la mia nipotina di sei anni abbia chiesto in regalo una chitarra classica, non una tastiera elettronica, proprio perché ritengo che si entri molto di più, assolutamente molto di più, nella musica, nel fatto musicale, faticando su uno strumento. D'altronde noi pensiamo che fino a o meno di un secolo fa, se non si andava in una sala da concerto, l'unico modo di sentire la musica era imparare a suonare uno strumento. Nell'Ottocento suonavano tutto il pianoforte e si suonavano le opere, le riduzioni pianistiche delle opere in casa perché non potevano ascoltarle. Ecco, ma può essere vero che attraverso le tastiere elettroniche, gli strumenti abbinabili ai computer, i ragazzi imparino un po' meno, ma imparino divertendosi di più e quindi, insomma, il connubio sia vincente? Assolutamente sì, la didattica è un'altra cosa, l'utilizzo dei mezzi audiovisivi e interattivi dell'elettronica è incredibilmente più efficace. Io ho notato che degli adolescenti imparano subito la notazione musicale, l'intonazione degli intervalli, eccetera, attraverso l'interazione proprio con lo strumento elettronico, con la visione, con i programmi che ci sono residenti sul computer, in cui vedi il suono, vedi la nota, senti il suono, vedi lo strumento, c'è un'immediatezza di ritorno che assolutamente facilita molto l'apprendimento. È possibile costruire proprio delle incisioni quasi professionali. Assolutamente, io sono un fautore dell'utilizzo proprio a tutto spiano, proprio a manetta, come si dice, della nuova tecnologia nell'apprendimento. Questo funziona per tutte le discipline, ancora di più per la musica, perché già è di per sé un fatto... Ecco, prima un giovane Fabrizio Bentivoglio, perché il filmato era di una decina di anni fa, ha detto una frase che mi rimasta in testa, cioè ricavare una voce umana da uno strumento elettronico, nello specifico si riferiva a una chitarra, è qualche cosa riservato ai geni. È d'accordo? Ecco, assolutamente sì. Mentre un oboe, un fagotto, un violino, ecco, ci comunicano... Anche perché se noi riflettiamo, il discorso che avevamo anticipato prima, la musica pop, la musica popular trae, se vogliamo, certe sue valenze proprio dalla musica popolare. Nelle varie etnie gli strumenti imitavano le voci, il sitar del raga indiano tende a imitare la voce indiana, lo hood arabo la stessa cosa, i flauti giapponesi la stessa cosa, cioè nelle etnie, nelle musiche tradizionali, proprio lo strumento tendeva... c'è stato nel pop, nel rock, questo recupero proprio di far sì che lo strumento diventasse qualcosa di aderente al corpo. Un appendice. Un appendice del corpo, al contrario della musica corta, invece che l'aveva allontanato. Lo strumento era elegante, raffinato e più puro era il suono, più perfetto era il modo di interpretarlo. Torniamo in studio, anche perché Francesco Leprino, in un suo intervento in occasione della prima giornata nazionale della musica a scuola, che si è tenuta il 5 maggio 99 a Bolzano, ha scritto una frase che io mi sono appuntato e di cui vorrei chiedergli conto. Altro interrogativo amletico, rock, musica per adolescenti o per adulti? Cosa voleva dire Leprino? Partivo da una mia considerazione personale. Quando avevo 12 anni, 13 anni, quando ero pre-adolescente, adolescente, leggevo i fumetti, la letteratura per ragazzi, ascoltavo la musica rock, ascoltavo la musica leggera. Poi, in qualche modo, mi sono anche voluto culturalmente, ho cominciato a leggere Kafka, Pavese, è arrivato anche a Joyce, se vogliamo, e anche ho cominciato a vedere un certo tipo di pittura e ho cominciato anche a trasformare i miei gusti musicali. Non mi bastava più, la trovavo in qualche modo non bastante insufficiente rispetto a quello che io chiedevo alla musica. Allora ho cominciato a interessarmi di altri generi musicali. Cioè era un albero al quale stavano spuntando dei rami nuovi e delle radici. Esattamente, certo, certo. Quindi c'è stata un'evoluzione parallela in tutti i campi delle espressioni artistiche. Spesso questo per la musica non succede, magari si diventa grandi filosofi, luminari, scienziati, e si ascolta ancora con un po' di nostalgia anche il rock di quando si era adolescenti, o certe canzoni che hanno scandito la biografia di una certa età. Era il discorso che facciamo un po' prima a proposito dei Beatles e dei Rolling Stones. Certo, certo. E allora mi viene quasi da pensare che ognuno di noi in qualche modo manteniamo il nostro contatto con la nostra parte adolescenziale, tenendo sempre presenti questi referenti musicali. Evidente che questa è anche una piccola provocazione perché tutto sommato a me piacerebbe di più, che in una trasmissione come questa ci fossero state anche delle richieste di altro genere di musica, da parte dei giovani. Le abbiamo, le abbiamo in frigorifero, oggi abbiamo soltanto iniziato. Allora sarà un'altra occasione. La prenoto fin d'ora per una prossima puntata. Certo. Va bene. Senta, Leppino, io la ringrazio molto, devo purtroppo salutarla perché so che lei ha degli impegni, abbiamo ancora in studio un paio di filmati da vedere, ma la salutiamo qui e davvero speriamo di riaverla presto a Mosaico perché ci ha dato molti spunti di riflessione. Grazie, arrivederci. Allora a presto. E noi, mentre Francesco Leppino ci lascia, ascoltiamo un Demetrio Stratos, la Cicala e il suo doppio, un bel ritratto di questo straordinario artista. Di nuovo in diretta dal TV2 di Milano. Allora, una maestra elementare che si chiama Giovanna Appengo è tra le insegnanti che ci hanno richiesto l'unità sui Beatles che abbiamo appena visto insieme. Io vorrei girare la domanda sul cosa fare di un filmato del genere con dei bambini così piccoli e laddove l'insegnamento della musica deve essere assolutamente istintivo, naturale, altrimenti non serve a nulla. Vorrei girare questa domanda a Francesco Leppino che è con noi in studio. Beh, intanto mi veniva da pensare che la musica intanto non si sente soltanto con le orecchie, ma si sente anche con gli occhi in qualche modo paradossalmente. Intanto perché noi ci portiamo, anche quando ascoltiamo un CD, un disco a casa, ci portiamo dietro la memoria del gesto dell'esecutore, dell'arcata del violino, nel caso di un violino, ma anche vedendo, non so, James Brown, i sudori di James Brown, cioè la sua immagine, la sua figura è imprescindibile dal suono che fa e questo vale ancora di più per la musica rock, per la musica leggera, dove il personaggio è un personaggio a tutto tondo, fatto da un'immagine oltre che da un suono, mentre l'interprete, il grande interprete classico può avere un viso sconosciuto, l'interprete invece di musica leggera, del mondo del rock, è un interprete a tutto tondo, in cui proprio l'impatto dell'immagine... Non può essere un enigma, insomma. No, non può essere assolutamente un enigma, assolutamente. O se lo è, c'è un caso paradossale negli Stati Uniti di un gruppo fantasma, ma quello destava più che altro curiosità. Però l'immagine, ecco, fa parte imprescindibile del suono. E quindi anche in questo caso, l'immagine dei Beatles, dove in questi filmati, fra l'altro, la cosa forte che noi notiamo è il volume delle grida dei fans, che addirittura a volte sovrastava il volume degli amplificatori, che allora non erano poi così potenti come oggi, sembra che io non ho mai assistito a un concerto dei Beatles, per poco. E purtroppo anch'io sono arrivato qualche anno dopo. E sembrava addirittura che queste grida del pubblico sopravvanzassero il suono stesso e il loro canto. Quindi è il rito, è l'happening nel suo complesso che diventa uno spettacolo. Sì, sì, è un rito collettivo ed è un, diciamo, penso che il fenomeno dei Beatles, come anche dei Rolling Stones, dall'altro canto, si è stato anche studiato come fenomeno proprio sociologico, proprio di moda, di costume, di moda anche in senso proprio molto positivo. Cioè ha fatto un'epoca, come si dice, no? Quindi la maestra di... non mi ricordo dove... Eh, ve lo dico subito, di Sandonato Milanese. Io credo che la maestra di Sandonato Milanese abbia avuto bisogno di questo video, probabilmente è una mia opinione, mi scuso la maestra se non corrisponde. E mi sembra che lei stia vedendo giusto. Che perché forse corrisponde a un suo fatto biografico, perché le canzoni in qualche modo si legano moltissimo al tempo, alla nostra anche autobiografia personale. Sono un po' come dei cartelli segnaletici della nostra vita, dei percorsi della nostra vita, per cui per un quarantenne o oltre quarantenne, per esempio, i Beatles sono una certa cosa, per un ventenne o per un trentenne, sono sicuramente un'altra cosa, se li ha vissuti indirettamente, pur amandoli magari allo stesso modo. Quindi sono proiezioni, diciamo, personali, per usare un termine un po' psicoanalitico, e poi invece valori assoluti, come abbiamo detto, la gestualità, al di là ovviamente poi della melodia, che è in questo caso universale. Allora, andiamo avanti, abbiamo due filmati da vedere subito, uno ci pone un dubbio, direi amletico, Beatles o Rolling Stones, poi chiederemo l'UMI a Francesco Leprino, il secondo invece una canzone dei Procol Harum, ascoltiamo A Whiter Shade of Pale. Allora, Beatles o Rolling Stones recitava il titolo di questa unità, giriamo l'amletico quesito, già detto, a Francesco Leprino. Cosa ne pensi? Sono due facce della stessa medaglia, io ho vissuto il periodo, ero giovanissimo, ero un Beatlesiano, ma ero un Beatlesiano perché, per motivi prettamente musicali, perché musicalmente mi interessavano di più, dal punto di vista proprio delle formate musicali, le canzoni dei Beatles. I Rolling Stones rappresentavano chiaramente la rottura, la trasgressione, anche i Beatles rappresentavano la trasgressione, ma era un tipo di trasgressione più metafisica, in qualche modo, più sublimata. Cioè, da un lato c'era, per intenderci, I Can't Get No Satisfaction, c'era Brown Sugar, che poi sarebbe la cocaina, c'era Let's Spend Night Together, dall'altro c'era Michelle, Mabel, ma c'era anche The Fool on the Hill, c'era certi tipi di denuncia sociale, anche sublimati, era una cosa totalmente diversa. Ed è un distingo, secondo lei, che può sopravvivere anche tra i ragazzi di oggi? Assolutamente sì. Oppure è diventata musica storica, per cui... No, 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 assolutamente sì, e ci sono ancora oggi. E come Bach e Handel. In fondo le due anime che convivono dentro di noi, l'anima, diciamo, trasgressiva, immediata, carnale, vorace, invece l'anima sublimata, ecco. Bene, allora, in studio, diciamo, parleremo oggi principalmente della funzione della musica a scuola, e lo faremo con un ospite che vedete già inquadrato, si chiama Francesco Leprino, buongiorno Leprino, musicista, musicologo, tra l'altro autore di spettacoli didattici, e anche di una serie di corsi di aggiornamento per insegnanti. Lui stesso insegna a scuola. Senta Leprino, io non per fare un talk show, perché Mosaico è tutt'altro, ma non posso non partire questa mattina con lei senza accennare alla polemica tecno-peccato. Insomma, sembra che la tecno, la musica di discoteca, sia la nuova musica del diavolo, induca a peccare. Oggi sul Corriere della Sera, in prima pagina, di nuovo tre casi di giovani che si sono sentiti male, in gravi condizioni, a Cremona, dopo aver assunto le pasticche di ecstasy. Immagino che a scuola questo sia un tema che interessa, su cui si scrivono componimenti, su cui ci si interroga. Lei come la vede questa tecno? Intanto penso che il peccato non sia nelle cose, ma sia nella mente di chi lo attua. Poi, se vogliamo parlare di attribuire, attribuire, diciamo, valenze peccaminose a qualcosa come la musica, se peccati può avere, la musica sono dei peccati piacevoli, spesso e volentieri. Se parliamo di, si parla di ecstasy, non se parliamo di ecstasy, tutta la storia della musica è sotto il segno dell'estasy. La musica, diciamo che, dopo l'estasy mistica, dopo l'estasy mistica, forse subito dopo, o forse in concomitanza con l'estasy mistica, è sicuramente, è sicuramente l'elemento che scatena più l'estasy. Addirittura, un compositore del Novecento, Scriabin, un compositore russo, ha fatto un componimento per orchestra che si chiama Poema dell'estasy. Ma tutta la storia della musica è una storia di grandissasi, certamente. Quindi, evidentemente, il problema non sta nell'oggetto, nel fatto che la musica possa provocare, possa provocare, diciamo, l'assunzione di certe sostanze o meno. Evidentemente, in un certo tipo di musica, evidentemente, in un certo tipo di musica, stimola a livello sensoriale determinate cose. Per esempio, io mi sono trovato soltanto una volta in vita mia a ballare della musica tecno, devo dire, innanzitutto che mi sono molto divertito, perché ho trovato, intanto, che essendo l'elemento propriamente musicale quasi completamente assente, essendo una musica primitivamente basata proprio sul rapporto ritmico fra il basso, la batteria, la cassa, inesistenti elementi melodici o armonici, il contrapunto con le luci, questo è anche molto interessante, trovo che sia una cosa che porti a un certo tipo di straniamento, non solo psichico, ma anche del corpo, ecco, del corpo, in qualche modo. Però mi sembra che lei assolva sostanzialmente la musica come mezzo aggregante, suggestionante e rimandi al libero arbitrio dell'individuo. se poi evidentemente io non definisco musica tecnica, però funzionalmente alla danza può essere sicuramente stimolante. Allora, fermiamoci qui, poi avremo modo di approfondire, abbiamo subito due filmati da vedere, ci portano in tutt'altro ambito sonoro. di nuovo in studio dal TV2 di Milano in diretta con Francesco Leprino, musicista e musicologo. Allora, prima di tutto vorrei dirvi che se vi è piaciuta l'unità con Milva Estreller dovreste portare i vostri studenti o se siete studenti andare a Milano a vedere l'allestimento che è stato realizzato a Palazzo Reale in occasione del festival del Picco Teatro del Teatro d'Europa 2000 perché su grande schermo potendo stravaccarsi, concedetemi il termine su degli stupendi divani di pelle in una delle sali di Palazzo Reale è possibile visionare su grande schermo alcuni documenti storici straordinari della storia del Piccolo con delle bellissime prove di spettacoli con Giorgio Estreller il grande mattatore. Torniamo a noi. Allora Leprino, qual è il valore didattico di un'unità come quella che abbiamo visto e poi anche se vogliamo della canzone che è seguita? No, intanto un piccolo inciso mi viene da pensare rispetto al discorso di prima dell'ecstasi della Tecne che se la Tecne dovesse indurre ad assumere stupefacenti allora questa canzone dovrebbe in qualche modo indurre a delinquere visto che è dalla parte di qualcuno che delinque appunto. Beh, questa è una splendida lezione dell'interpretazione musicale dell'interpretazione vocale e induce a molte riflessioni anzitutto la musica vocale è nata come imitazione modellata sulla parola parlata in origine nella musica popolare nell'antichità poi per un grande lasso di tempo per circa 400 anni circa 400 anni si è staccata diciamo dal corpo terrigno proprio del vivere di tutti i giorni e l'esperienza di questa di questa lezione ci fa capire proprio come l'unione fra parola e musica sia un po' un po' simile a quella della parola inserita nel verso poetico quindi in qualche modo la parola che ci dice qualcosa in più che ci crea delle immagini che ci suggerisce delle metafore che ci porta a costruire delle catene simboliche infinite proprio attraverso l'interpretazione attraverso l'addizione di questa parola e questo è stato fatto e penso che Streller questa canzone e questo modo di percepire le cose abbia addesunto un po' da tutta l'esperienza del cabaret tedesco quello con la K degli anni venti tedesco e dall'esperienza appunto del teatro di Bertolt Brecht e della musica di Kurt Weill l'opera da tre soldi poi sappiamo che Milva è più o meno coeva nel suo allestimento con Milva e Modugno proprio al filmato che abbiamo visto perché se non ero fu del 72 73 e quindi lì Brecht e Kurt Weill di concerto avevano diciamo creato anche questo modo di cantare questo modo di cantare che era vicino all'inflessione della parola parlata quindi lo stesso Streller a volte suggeriva a Milva proprio di di cantare come se fosse parlato addirittura a livello fra virgolette colto aveva fatto una cosa del genere Arnold Schoenberg in una composizione che si chiamava Pierrot Luner in cui aveva inventato lo spreche gesang cioè il canto parlato questo modo di intonare le note e lasciarle andare lasciarle cadere come se fosse parlato proprio per avvicinarsi alla concretezza della vita di tutti i giorni poi lì Streller insisteva anche sulla gestualità perché era una canzone che invitava molto a questo abbiamo avanti abbiamo altre due bellissime unità dedicate a Nino Rotta abbiamo la possibilità di proporvi un pezzo della colonna sonora dei temi di Amarcord e poi quelli stupendi altrettanto di otto e mezzo eseguiti dall'orchestra sinfonica della Rai di Milano quando ancora esisteva un'orchestra sinfonica a Milano bene bene abbiamo anche noi un musicista in studio Francesco Leprino stamane quindi cerchiamo di dire delle cose possibilmente interessanti sul valore sul significato della colonna sonora in modo da aiutare i ragazzi a guardare un film e anche ad ascoltare a pensare alle immagini Leprino sì anzitutto precisiamo subito che questa è una mia opinione ma ve la dico lo stesso che a mio avviso lo specifico della musica da film non esiste qualsiasi brano qualsiasi musica banalissima o grandissima può essere un'interessantissima musica da film sta di fatto però che nel preciso istante in cui quella musica quelle immagini sono legate insieme diventano altra cosa diventano un'altra cosa fanno parte di un tutt'uno che snatura la loro origine di partenza ecco in che senso ci spieghi bene mi sembra molto interessante gli ascoltatori per esempio i ragazzi gli studenti che magari non hanno visto questi film è possibile perché sono di un po' di anni addietro probabilmente sentiranno queste musiche diciamo in maniera svincolata dalle immagini che si portano dietro ma chiunque abbia visto il film non può fare a meno di evocare ascoltando queste musiche le immagini che queste musiche si portano dietro perché sono inscindibilmente legate dentro dentro di noi porto un esempio eclatante per esempio il caso di morte a Venezia in cui l'adagio di Mahler ecco l'adagio della quinta sinfonia di Mahler Mahler era pochissimo conosciuto fra l'altro quel film ha stimolato la Mahler renaissance Mahler era pochissimo eseguito è stato molto eseguito dopo quel film ma chiunque abbia conosciuto sentito per la prima volta quei suoni accoppiati a quelle immagini non può più sentire in maniera svincolata quel brano perché è diventato parte di un meccanismo di qualcosa di un linguaggio complesso come è il cinema che è fatto di tanti linguaggi e che quindi interagiscono fra di loro e in questo melange si crea qualcosa di unico come se fosse una scultura tutto tondo ecco ma questo dipende anche dal fatto che l'incontro era particolarmente fortunato cioè Visconti in quel caso Fellini beh qui addirittura abbiamo sentito le musiche composte per un film non prese ecco la scelta era felicissima Visconti in quel caso si è cavato di impaccio perché ha a che fare intanto con un racconto che normalmente i racconti sono talmente la parte letteraria cioè da cui deriva un film quando è forte quando è potente ingoia il film stesso per superare l'impassa allora ha sovrapposto questo strato di significazione che era questo questo splendido brano l'ha da getto la quinta sinfonia di Mahler che ha che ha diciamo elevato su un altro piano non è più entrato in concorrenza con Romanzo in qualche modo ecco ma per fin nel caso di Visconti di Fellini e Rota invece il rapporto era molto particolare c'è anche una ricchissima aneddotica nel senso che Rota era un grandissimo musicista ma era diciamo anche molto accondiscendente al voleri del maestro Fellini in questo caso il quale credo che fosse difficile non essere accondiscendente assolutamente ma il quale Fellini fra l'altro per sua stessa ammissione non amava più di tanto la musica non riusciva a seguire un'opera o un concerto fino alla fine si annoiava cioè non aveva una grande sensibilità musicale questo può sembrare strano ma in realtà è così però aveva questa grande sensibilità artistica sapeva cosa voleva Rota improvvisava dei tema pianoforte allora diceva sì ecco questo mi torna mi rientra nella tinta generale che lo voglio e con questo grande fiuto poi costruivo perché in fondo spesso e volentieri io sostengo l'autore delle musiche del film più che il musicista è il regista perché è il regista che cattura proprio le tonalità delle varie tavolozze dei linguaggi ecco ma per tornare un attimo a quello che diciamo prima cioè all'incontro perfetto diciamo di musica e immagini se vi sconti invece di proporci in apertura quel battello che accosta e arriva nella laguna foschiosa ci avesse messo qualcosa d'altro di meno riuscito l'accoppiata e il nostro ricordo la nostra memoria notevole funzionerebbero meno ricorderemmo meno in quel modo probabilmente sì è tutto da verificare sicuramente la sensazione che noi percepiremo sarebbe diversa perché è come nella chimica due elementi che si fanno reagire si ottiene un certo tipo di reazione ecco qualsiasi musica può andare bene con qualsiasi immagine in teoria provoca delle cose diverse che possono essere più o meno forti possono essere più o meno sentite possono essere più o meno consone a quello che si vuole dire io non sono molto d'accordo ma non abbiamo tempo di andare a mani dopo il filmato vediamoci adesso qualcosa di diverso abbiamo The Blues Brothers colonna sonora del film varie interpretazioni dei brani presenti in questa celeberrima colonna sonora e noi questa unità la dedichiamo a quelli che ancora pensano che Mosaico non mobiliti la lezione a scuola torniamo dal nostro ospite di oggi Francesco Leprino musicista musicologo insegnante lui stesso di musica allora Leprino avevamo prima lasciato un po' un discorso in sospeso a proposito delle colonne sonore e i Blues Brothers ci consentono di continuare lei a un certo punto ha detto in sostanza qualunque immagine può essere commentata accompagnata arricchita da qualunque suolo credo che sia una frase che necessita di qualche chiarimento proprio in quel film mi viene in mente The Blues Brothers c'è un momento che è una delle scene clou del film è una scene finale in cui viene usata la famosa Cavalcata delle Valkyrie di Wagner ecco la Cavalcata delle Valkyrie è usata qui in una maniera assolutamente diversa da come è stato usato in tanti film è un brano che è stato utilizzato in tanti contesti diversi anche in un film La Pantera Rosa adesso non ricordo una della serie della Pantera Rosa è stato usato in Apocalypse Now è stato usato in tantissimi altri film in contesti diversissimi con funzioni diversissime il brano è sempre quello assume una cosa sono una cosa sono diciamo gli elicotteri che bombardano di Oliver Stone e una cosa invece è il contesto comico paradossale dei Blues Brothers è evidente la musica è sempre quella però assume assolutamente una valenza diversa una valenza completamente differente e d'altronde se noi pensiamo agli usi differenti che si sono fatti di un certo tipo di musica rispetto a certi contesti pensiamo che già nei primi anni 30 il gruppo che faceva parte ad Einstein in Unione Sovietica col manifesto dell'asincronismo aveva appunto teorizzato il fatto che la musica il suono la colonna sonora dovesse dire qualcosa di opposto a quello che c'era nella scena pensiamo mi viene in mente a come utilizza la musica Pasolini per esempio in un film come Accattone c'è questa scena di periferia in cui litigano questi poveri questi disseredati prostituzione delinquenza lui che cosa ci mette? un'aria dalla passione il corale anzi dalla passione secondo Matteo di Bach quindi una cosa che assolutamente fa le negazioni di Pietro e quindi evidentemente in quel caso lì c'è una musica che ci vuol dire qualcosa di ulteriore che le immagini non riescono a dirci Pasolini in quel caso chiaramente voleva innalzare a vittime universali in qualche modo a vittime sacrificali questi personaggi emarginati e tutti i discorsi che si legano a questa cosa le possibilità di incontro sono infinite chiedere chiedere Grazie.